. Grande Fratello 18 con Barbara D'Urso, svelati i primi concorrenti Grande Fratello 2018 Anticipazioni sui concorrenti, ecco chi cè nel cast. E tutto pronto per la nuova edizione del cancelletto Grande Fratello 2018 condotta da Barbara D'Urso. Le anticipazioni ufficiali rivelano che manca davvero pochissimo al debutto di questa quindicesima edizione che andrà in onda su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile in prime time dalle 21,20. Un nuovo impegno per la conduttrice bislacca del biscione che oggi durante la diretta di domenica live in onda su Canale 5 ha fornito un po' di anticipazioni su coloro che saranno i prossimi concorrenti di questa edizione. I primi concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2018. Nel dettaglio abbiamo visto che a domenica live sono stati presentati in anteprima i primi tre concorrenti di questa edizione del GF15 che sono stati definiti da Barbara D'Urso i Superbonni. Trattasi di Valerio, Filippo e Simone tutti di età compresa tra i 22 e i 25 anni, i quali in questi giorni si sono messi in gioco all'interno di un casale in attesa del debutto di questo martedì sera. I tre ragazzi sono stati definiti appunto i Superbonni dalla presentatrice del Grande Fratello, tutti single pronti a fare danni all'interno della casa più spiata d'Italia. Insomma un'edizione che seppur breve riserverà grandi colpi di scena e tanta carne da mettere sul fuoco. La conduttrice nel corso della diretta di pomeriggio 5 di questi ultimi giorni e domenica live di oggi pomeriggio ha svelato che quest'anno ci saranno delle novità importanti all'interno della casa del Grande Fratello 2018, tra cui una stanza dedicata alle sorprese e agli ospiti che di settimana in settimana arriveranno in casa per vedere i loro cari oppure i loro fidanzati e potrebbero succedere delle cose particolari. Il cast del nuovo GF 2018 con Barbara D'Urso. Ma chi saranno gli altri concorrenti di questo Grande Fratello 2018? Barbara D'Urso ha svelato che quest'anno nella casa entreranno anche delle persone semi-sconosciute che in parte abbiamo già visto in televisione anche se non possono essere considerati dei veri VIP. Tra questi vi segnaliamo la presenza della ricchissima Camilla Lucchi, che con il suo modo di fare da nobile donna promette grandi scintille in casa. E poi ancora confermata la presenza di Michael Terlitz, video virgola i, che abbiamo conosciuto quest'anno in quanto figlio di Franco Terlizzi diventato popolare all'Isola dei Famosi. Nel corso della diretta di domenica live di oggi, inoltre, Barbara D'Urso ha smentito la presenza in casa dell'ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Grazie a tutti.